Buongiorno, allora voi sapete che nei giorni festivi quando carico i video se li carico parlo di tutt'altro tipo di televisione o magari butto di un video un po' più leggero del solito e oggi facciamo una bella edizione a tamburo di meglio che te stai zitto e ringraziamo i romani per il loro dialetto che è sempre estremamente utile in queste cose per cui prima di tutto pollicione, iscrizione e campanella per ricordare a youtube che esisto e poi partiamo con la fiera allora voi sapete che avevo tirato le orecchie al post della Dadone ma c'è un motivo che secondo me la Dadone è brava e io ve l'ho sempre detto se io vedo Varen che si muove come un cavallo da tiro mi incazzo mentre se vedo un cavallo da tiro che si sforza di andare veloce lo premio ecco la Dadone secondo me è brava ma deve uscire un attimo dall'idea di mettere dei post per la folla social perché quello è un post per la folla social dove purtroppo come diceva ecco una volta quelli che commentano sui social, i conigli da tastiera insomma erano quelli che commentavano al bar dopo il dodicesimo bicchiere e quindi straparlavano e non se li filava nessuno, sono arrivati sui social e sono diventati maestri pensatori anche se probabilmente non sanno lasciarsi ancora bene le scarpe ecco evita di fare quei post social, vai dritta, impegnati e magari ricordati che a prescindere perché io sono il primo a considerare le vaccate però ci sono, l'etichetta istituzionale serve a qualcosa non copiare i toninelli di turno, ecco toninelli è l'esemplificazione del politico da social insomma lui si considera il politico più attaccato d'Italia, per forza ogni due frasi che dici, dici una vaccata, non è che se è un po' tu che te la cerchi, quella del ponte penso che sia diventata storica a livello mondiale mettiamo i bar sotto il ponte lì, che cavo, sotto il polcevera tiri una respirata lì e svieni e sapete che adesso ha una chiara illegale con Berlusconi ora, io ho un suggerimento che darò a toninelli non ti suggerisco pancaterra entusiasmo, quelle cazzate lì te le puoi tenere tu da cremasco no, io avrei sinceramente detto al posto Nelli se io ho detto delle cose vere probabilmente le ho utilizzate per motivi politici nel senso che le ho usate per fare campagna per me stesso sui social perchè è quello che ha fatto invece lui cosa va a dire? se guardate il suo post su facebook ogni 3x2 e mi ha chiesto 200mila euro e chi ce li ha? io ho dato i soldi indietro allora, di la questione dei soldi indietro non me ne può fregare di meno anche perchè non li hai dati tutti ma la metà e la metà di 14.000 fa 7 non hai dato sicuramente indietro i rimborsi che per la maggior parte per i politici sono profettari manco controllano che cazzo avete speso ma non è neanche quello il fatto è che io posso chiederti quel cazzo che voglio facendo una stima approssimativa sul tuo patrimonio poi se non ce li hai, sono cavoli tuoi ma il fatto è che qui non siamo neanche ancora davanti a un giudice perchè la richiesta che è stata fatta a Toninelli è una mediazione è stato convocato per una mediazione non si è ancora neanche davanti a un procedimento legale vi suggerisco in questo caso di andare ancora sul sito di questo avvocato avvocato Catania che è anche abbastanza spirituoso che spiega effettivamente gli errori non comunicativi, gli errori reali di Toninelli poi comunicativamente lui la butta in piangeria hai visto io sono povero ragazzi ve l'ho detto il video che ho messo privato della Meloni se qualcuno l'avesse scaricato adesso alla Meloni la Meloni mi fa chiamare dal suo avvocato e gli faccio un paiolo a cisterna non preoccupate che non vado a dire eh ma insomma metti quei soldi lì no gli dico io ho sbagliato nel metodo ma non nel merito ed è lì che io la mia difesa sarebbe quella e la porterei anche davanti a un tribunale ho sbagliato nel metodo ma non nel merito e dopo un po' fuori di sentire gente che ti spara che spara sui poveri a palle incatenate penso che a qualcuno possono anche saltare i nervi questo è il primo però a proposito di gente che spara sui poveri a palle incatenate è arrivato De Luca che da quello che ho capito ha una gestione un po' un po' litoranea della campagna zacco zacco perché mentre si preoccupa molto delle zone turistiche del resto della campagna viene fotto un po' una sega ma evidentemente vabbè il personaggio è quello però il soggetto personaggio se ne esce con questa dichiarazione preferiscono starsene a casa prendere l'RDC che guadagnare alzasse le 6 di mattina per guadagnare 700 euro e ci si riferisce agli stagionali De Luca capisco che tu hai la pancia piena e sei un grasso e sei un unto in tutti i sensi ma invece di criticare l'RDC perché non critichi lo stipendio che viene dato agli stagionali perché la logica è quella se tu invece su quello sono d'accordissimo con Crozza se magari invece di danni nel 700 e li fai lavorare 12 ore al giorno e gli dai 1200 1400 e li fai lavorare 8 ore al giorno col giorno di riposo vedi quanta gente molla l'RDC e scappa da quella parte perché con l'RDC tu non vivi sopravvivi con l'RDC tu sopravvivi e ci sono mesi in cui devi fare i salti mortali per sopravvivere e ti trovi magari con grossi problemi a pagare le cose più importanti chiariamo questo dagli uno stipendio onesto e daglielo con i contributi cioè registrato contributi pagati le ferie e tutto quanto daglielo in modo corretto e onesto e vedi quanta gente molla l'RDC e corre ma se tu mi dici che gli dai 700 euro e magari devono lavorare 12 ore al giorno 7 giorni alla settimana ma che cazzo stai dicendo ecco il problema grosso però è che uno che fa questo ragionamento è del mio partito cioè io fossi stato il segretario del mio partito leggo sta puttanata il giorno dopo arriva a De Luca una lettera fuori dai coglioni tu non sei più nel PD ti ho un calcio in culo e te ne vai punto e tutte le occasioni che può capitare ti smerdo ti dipingo per quello che sei invece muti il mio partito come il solito è muto perché? perché ragazzi abbiamo una meba una meba attesticolata come come leader che mi aggancio vedete letta con le sue famose dichiarazioni prima ringrazia Renzi che gliel'ha messo in quel posto da boh ogni tanto si scoprono cose nuove avrò voluto provare un'esperienza diversa o semplicemente come vi ho detto alla spina dorsale di un ombreico per cui e torna sulla questione tassa di successione che sarà un aiuto per i giovani ora a parte ve l'ho detto chi gli ha fatto il conteggio del gettito probabile è uno che evidentemente vive da un'altra parte del mondo non lo so ma penso che neanche in America che avrebbero quella cifra se in un anno stempiassero tutti ricchi ma non è quello il problema è che dopo due secondi che l'ha detta Draghi ha detto per piacere sparamelo cazzate e il mio eroico partito ne riparliamo alla prossima legislatura che approssimativamente se le cose se l'andazza è questo sarà fra dieci anni perché insomma che il centro-destra sia un po' più forte si vede il problema è che poi come ha fatto queste dichiarazioni mentre si fa fotografare in bicicletta e mentre fa il minchioncello in spiaggia non ho capito se è su una tavola da surf che comunque fa il minchioncello ma io me lo immagino i suoi studenti in Francia cioè entrava lui che bello dovevano fare un cazzo tanto quello parlo non dice niente e questo qui è il nostro capo ribadisco ma è possibile che nessuno nella segreteria sia uscito ad andare a controllare un cassonetto dove magari c'era una bella pantegana grassa gli avesse detto senti c'è un posto libero come lì preme del PD ci vieni tanto formaggio tanto cibo uono magari si convinceva la pantegana manco quello sono stati capaci di trovare tornando appunto di pantegane e di cose di spazzatura in questo caso di cibo spazzatura cristiano ronaldo agli europei che sposta quelle bottiglie ah mancava solo che alzasse il braccio tirasse fuori il crocifisso tu oh io ti esorcizzo in nome dello salutismo esasperato e della faccia da vabbè siamo capiti che ho io perché adesso vi spiego il perché ah ho allontanato le bottiglie della rocola che è lo sponsor degli europei che è contentissima del gesto ha avuto anche una certa perdita economica e adesso poi non so ho sentito ci sono girate voci anche di una possibile causa legale contro cr7 che ci starebbe tutta nel senso che tu sei lì fai il grasso con i soldi nostri e poi fa queste merdate mi girano poi i coglioni lì toccherà Orge Mendes perché se si dovessero affidare all'intendenza di cristiano ronaldo in una causa contro la hoa hoa cristiano ronaldo finisce sotto un ponte ecco male ma proprio male finisce perché diciamo che non è uno considerabile un'intelligenza anche per alcune su usciti durante il periodo lo capite ha fatto il conoscite che vabbè sono a livello di dei dei droni di turno ecco di sicuro poi se qualcuno lo vuole vedere il maestro pensatore non lo so ci vuole veramente uno sforzo intellettivo enorme in questo senso il problema è che mentre Cristiano Randa allontanava perché il demonio ma chiamate Lancaster Mary che deve esorcizzare le bottiglie è testimonia di una casa che fa prodotti alimentari di nome KFC mandatevi a guardare lo spot ora i prodotti della KFC rientrano in quella schiera che ironicamente potete definire unto bisunto cioè roba che quando la schiacci ti esce la pista di olio che quando la mangi il fegato ti manda la diffide e dopo la terza o quarta volta ti arriva direttamente la querela per attentato perché ecco mi fai la moralina e la hoahola che non fa bene sì è vero le grandegassate non sono salutari chi se ne chiava ecco ve l'ho già detto come la penso su queste cose io schiattare a cento anni senza aver mai goduto un giorno della vita non ho capito che vita hai fatto ma non è che quella roba che pubblicizzi è meglio anzi perché ho detto se uno di voi che ne so avesse problemi a mettere a trovare l'olio da mettere nella macchina ma si prende un pacco di quella roba e lo strizza dentro e c'ha l'olio da macchina perfetto perché mi sa che è pure esausto ma con che ghigna critichi quella e tu pubblicizzi questa? ovvio parliamo di una persona che quando deve ragionare si stringe le chiappe quindi fate un po' voi ecco e adesso andiamo sul treno sul treno della fantasia perché qui devo essere molto scivoloso perché si tocca un argomento che sapete che youtube si incazza alcuni giorni fa un re il re della televisione giornalistica italiana il portatore insano di Ney invita un campione dello sport una leggenda uno dei pochi palloni d'oro italiani che esprime una sua opinione in merito a una certa cosa opinione generata scusate bisogna dirlo piccola dalla sistema di comunicazione di chi doveva comunicare certe cose fatto da un diversamente pensante e sono molto gentile perché qui devo essere molto scivoloso perché dicessi cosa quello che penso veramente di come è stata fatta una certa comunicazione altro che gli stracci che volano e il portatore insano di Ney si incazza anche lì gli sono uscite le fiamme dal culo cioè dalla faccia perché che ragazzi io è il rispetto per quello per carità ogni tanto zacco un pezzo ma dal punto di vista etico è uno che se magari non c'ha non c'ha la tragedia se la crea ecco quello ha espresso solo una sua opinione causata probabilmente anche dal modo con cui avete comunicato determinate cose avete cavalcato l'onda ogni 3 per 2 anzi alcuni che cavalcavano l'onda al giorno dopo dicevano la cosa opposta senza manco vergognarsene poi invita uno di quelli che io non ci credo gli rettiliani insomma la sto prendendo molto sul comico cercate di capire per me insomma la terra è piatta ecco lo inviti non lo fai parlare e lo minacci anche qui scomunica rogo in piazza dal campo dei fiori roba così per carità io dal punto di vista della posizione quello la per me ho detto lo metto nella categoria di terapi artisti da questo punto di vista però però io non lo invito neanche a una trasmissione televisiva per fare un contraddittorio che poi non gli faccio fare perché è ovvio che lo inviti per fare la marionetta e per farti bello tu per farti grosso tu cioè è come se Mike Tyson una volta andasse a picchiare un bambino di tre anni è quello l'idea di fondo è quella ti fai grosso ti fai bello ma in realtà l'altro non ha mai voluto il contraddittorio e allora qui viene fuori il discorso che c'hai la faccia come il retro bottega perché o lo inviti e lo fai parlare e contesti quello che dice o non lo invitare proprio ma invitalo non farlo parlare sai cosa hai ottenuto tu portatore insano di nei? di farlo passare per martire chi ha quelle idee vedendo come l'hai trattato lo eleverà di status ecco il martire della televisione perché ragazzi puntualmente è arrivato Paragone mentre ha organizzato la maratona intorno a intorno alla alla sede della Rai un'utilità ragazzi lo fai diventare un martire quando non è un martire è un po' il discorso che ho fatto in merito a ve lo sapete quel canale che è stato chiuso lo fai diventare un martire quindi gli dai più visibilità di quanta gliene avresti data non invitandolo o lasciandolo parlare magari sbertucciandolo smontandolo con dei dati tecnici questo qui non è giornalismo questo qui avrà spettacolo e infatti è arrivato Paragone puntualmente andatevelo a guardare il video del suo girotondo intorno alla Rai è l'utilità estrema in cui parla di cose e sei passato dalla padagna ai 5 stelle hai mollato i 5 stelle adesso hai fatto un partito che non si capisce bene da che parte vuole andare ma di sicuro non è un partito equilibrato perché vabbè sta cercando di raccattare tutto quello che gli capita a tiro e quindi determinate fasce che stavano dentro i 5 stelle stanno andando da lui secondo me è solo un bene per i 5 stelle tanto per essere chiaro cioè io ho trovato uno spettacolo imbarazzante e andiamo all'ennesima dimostrazione che poi ragazzi ancora sentire dire che la televisione pubblica italiana è una televisione ma non era così negli anni negli anni sessanta quando ha buttato via ha buttato fuori due geni come Tognazzi e Vianello per una battuta assolutamente innocua cosa cazzo vogliamo raccontare la differenza è che una volta in quegli anni avevano un personale tecnico di primo ordine di qualità eccezionale ve lo dico di qualità eccezionale alcune cose se le sognavano in America adesso se un americano viene a vedere come funziona il sistema della televisione pubblica italiana si mette le mani nei capelli ma ma cioè siamo ai livelli sotto il pavimento boh lunghissimo video sapete il sabato e domenica sbracca un po' io vi saluto ci vediamo domani o direttamente in un D che inizia la settimana pesante ciao a tutti